Ora che mi sono tolto un sassolino dalla scarpa, posso tornare nell'ambito penatorio. Quindi parliamo di quelle che una volta venivano chiamate giustamente riserve di caccia e che dopo secoli la prima legge sulla caccia, la 968 del 1977, definisce aziende. Prima quando si cacciava col testo unico di pubblica sicurezza si chiamavano ancora riserve. Aziende, non c'è definizione più estrusa, le strutture private che coprono il 15% del territorio agrosivo pastorale e che producono fauna e ambiente, sono aziende che se danno reddito sono considerate peccaminose. Aziende dove il grande fratello, la mano pubblica, Stato, Regioni e qualche volta alle associazioni venatorie e una volta alle province, mi dice come devo condurla per farla prosperare, come se non fosse questo il primo desiderio del concessionario. Qui abbiamo due personaggi che di queste cose si intendono veramente, uno è Galdino Gattoni, il presidente dell'ente produttori Senvagina che è l'associazione, diciamo così, sindacale di categoria di quelli che gestiscono a fini di caccia strutture private. È un'associazione che sta tra quella degli agricoltori e i cacciatori perché voi siete anche associazione Venatoria. Noi siamo associazione Venatoria riconosciuta dal Ministero, forse siamo addirittura la prima, prima ancora di FederCaccia e siamo un'associazione che raccoglie anche agricoltori perché sulla terra degli agricoltori facciamo la caccia. Ci riteniamo anche degli ambientalisti perché proteggiamo le nostre aziende in maniera particolare e in modo molto superiore a quello che vedo di molti parchi. Questo dovrebbe essere il sottopancia però, tu hai scritto troppo presto, sono partito. Saverio Patrizzi, Saverio Patrizzi è una famiglia alle quali Roma deve soverte, soprattutto nella zona no di loro. Storico concessionario dell'azienda Polizia Venatoria Castelgiuliano Sasso, c'è stato un grosso problema, tanto per cominciare. Una volta, diciamo così, la Regione era quella che dava le indicazioni di massima, no? della legge 157 e affidava la gestione della caccia alle province. Ora, le province che avevano sviluppato delle loro competenze, le province sono state abolite, quindi tutte quelle competenze che erano nelle mani delle province sono passate alle regioni che non hanno proprio le competenze perché non lo hanno fa, perché è la prima volta che lo parla. Quest'anno abbiamo visto delle belle, ecco. Parliamo di tutta Italia, poi perderemo dei problemi. I problemi, diciamo, sono un po' generici e diversi regione per regione, perché ci sono regioni che sono arrivate all'appuntamento più preparate di altre. Normalmente la situazione è stata piuttosto complessa, soprattutto nel primo anno. Molte aziende non sono riuscite ad avere piani di abbattimento per la selvaggina in selezione, non sono riuscite ad avere dei comportamenti chiari in tutta Italia, sto dicendo. Mentre in alcune regioni, in modo più grave ancora, più particolare, non esistono regolamenti regionali in molte regioni, alcuni regolamenti sono diversi, poi tra regione e regione in maniera consistente, perché per esempio si va dai 10 anni di durata, che è un aspetto che non è tanto piccolo per nascere un'azienda, perché se è un'azienda faunistico-venatoria, ha una durata di 10 anni, si possono prevedere investimenti, cose di un certo punto. Durante di 6 anni il discorso è diverso. La regione nazionale c'è da 6 a 10 anni e molte regioni interpretano in maniera restrittiva. Dallo scoglio africano, dall'ampedusa fino alle Alpi, al centro Europa, c'è una bella differenza. Sono diverse le cacce che si praticano, dalla migratoria alla tradizione, certo. Tipi di fauna, ecco. Sono curiosi però di capire qual è l'entità del fenomeno. Io lo so, ma devo chiedere. Quanto sono le aziende? Le aziende sono circa 1.530, fai conto, in tutta Italia. Tra aziende fonistiche e agrituristiche. E tu possiede anche gli istituti riservistici Trentino-Alto Adige? Compresi anche quelli lì. Che sono riserve comunali. Che sono anche riserve comunali e ci sono riserve private. Ma voi comprendete anche le riserve comunali? Noi abbiamo nel Trentino la rappresentanza di 60 aziende private. Ah ecco, le private. E anche. Quelle comunali? E anche una parte delle comunali. Anche? Quasi tutto. Mentre nel resto d'Italia abbiamo sia agrituristiche che agrituristiche. Qual è la superficie che coprono le aziende private? Supera il milione di ettari, arriva un milione e sessantamila ettari circa. Che è una percentuale molto inferiore a quella che li spetterebbe per diritto, perché il 14%, 15% del territorio è molto superiore a questa cifra. Calcolando che siamo la metà dei parchi, un terzo dei parchi anzi, come misura. I parchi sono 3 milioni e mezzo. Noi siamo meno di un terzo. Sono andati oltre quello che è previsto dal 157 in molte regioni, Abruzzo, Campania, Lazio. I parchi hanno già superato la quantità. C'è ancora chi propone i parchi, poi questa va da racconto. Poi ne parleremo. Sono una vera e propria entità. Da qualche parte si ricomincia anche qualche invidiusa da parte delle associazioni venatorie che gestiscono le piccole gelosie locali dei cacciatori, quindi che cercano ancora una volta di limitare. Mentre ci sono associazioni venatorie che hanno le loro aziende, ci sono altre che non ce l'hanno. Le stesse in altre zone magari fanno la guerra alle tutte le private chiedendo una riduzione del territorio del loro concetto. Lì sai è un discorso di località, di persone a livello locale. Le piccole invidie, le piccole gelosie, queste esistono in tutti i nostri settori. Però non è questo il problema grosso. Però le aziende, le fornistiche venatorie e le agrituris, cioè le strutture private, producono fauna e ambienti. Allora, Stavere Patrizzi, tu sei concessione a Castel Giuliano Sasso, ci tengo a dirlo. Sì. È stata la paglia della cacciarella romana, lì è nata la cacciarella romana che ormai abbiamo esportato in tutta Italia. Diciamo che Castel Giuliano Sasso è nata come un'azienda privata, prettamente privata di famiglia e adesso ha subito una grossa evoluzione, nel senso che è diventato un consorzio, di cui io sono direttore, che comprende la parte nostra di famiglia, nonché tutta una zona gestita dai cacciatori locali. Per cui comunque è un esempio di simbiosi, diciamo, fra quasi pubblico e privato, perché sono quei cacciatori iscritti alle varie associazioni venatorie che comunque cacciano l'interno dell'azienda e loro si gestiscono, chiaramente sotto un coordinamento del concessionario, il loro territorio. È una buona indicazione perché le tensioni, in questo caso, sono nulle. Esatto. O dovrebbero essere nulle. Dovrebbero. Speriamo che continui, al momento lo so. Il discorso che tu facevi è che le aziende faunistiche, una delle loro finalità principali è salvaguardia e tutela dell'ambiente e della selvaggina. È proprio nel diktat delle aziende faunistiche. Io, in questo momento, visto che siamo diventati ormai Europa, anche se c'è chi vorrebbe uscirne, hanno ancora senso le aziende faunistiche? Questa è la mia provocazione e ti spiego perché. In tutto il resto di Europa la caccia è una risorsa dell'azienda agricola, che in questo caso si chiama azienda. E c'ha uno scopo di lucro. Avere un'azienda agricola che può usufruire della selvaggina che c'ha sul suo territorio e non debba subire ulteriori balzelli per fare l'azienda faunistica, vuol dire dare un grosso incremento anche economico a queste aziende. Se io sono cacciatore potrò cacciare su quel terreno. Se io sono anticaccia, il massimo del rispetto sul terreno mio non ci caccia nessuno, ma i danni me li pago da solo. Perché a quel punto risolvo pure il problema danni, perlomeno sulla selvaggina cacciabile. Non è per niente provocatoria, io la trovo molto sensata perché in questo modo tutto il territorio sarebbe gestito. Anche quelle zone che oggi, gli ATC, che sono nati come riserve consorziali, riserve pubbliche, e invece sono diventati dei carrozzoni dove non si produce niente, dove si comprono animali che vengono immessi, eccetera. Ecco, almeno la maggior parte. Ecco, tutto il territorio italiano sarebbe gestito. Bruno, ho sentito parlare a proposito degli ATC di proposte, spero che non passino, non lo so, io non ho sentito parlare, assolutamente insensate. Cioè ridurre le aziende faunistico, perlomeno quelle nuove a mille ettari, corridoi fra un'azienda e l'altra, che cosa vuol dire? Che non siete in grado di gestire gli ATC e dovete andare a ricasco delle aziende. Il cacciatore diventa un mendicante dell'azienda faunistica. Se il territorio fosse tutto quanto gestito in maniera privatistica, anche i costi si abbasserebbero, sicuramente. Io vedo in Inghilterra che i cacciatori dei piccoli paesini non hanno nessun problema ad affittare dei territori e gestirseli con costi più che abbordabili. D'altronde non possiamo pensare che negli anni 2000 la caccia sia gratuita come... La salute pubblica, la sanità... Se io vado a giocare a tennis, vado a giocare a golf, pago qualche cosa. La selvaggina ha un costo di gestione enorme per lo Stato o per i privati? Gli ATC erano nati in realtà con l'intento, sempre seguendo il modello delle riserve comunali dell'alto adige del Friuli Venezia Giulia, con l'intento di creare delle strutture gestite dai cacciatori non proprietari di terreni oppure che mettessero i terreni a loro disposizione. In questo però, perché fossero così, si è ripetuto riconoscere agli agricoltori, dal piccolo al grande agricoltore, riconoscere un prezzo per l'uso del suo terreno. Questo non è stato, sono diventati carrozzoni politici, i partiti mettono in loro, le associazioni venatorie mettono in loro, i trombati alle elezioni che sono presidi... Però lì c'è un discorso di fondo da fare. Una volta che viene abolito questo articolo che consente al cacciatore di entrare nell'azienda fonistica e quindi si cambia il sistema, che cosa si fa? Ecco, c'è il sistema austriaco, per esempio, che è un sistema estremamente valido che tu conosci molto bene e che secondo me è quello migliore, che consente a chi è piccolo, fino a 80 ettari, di conglomerarsi per poter gestire e chi è più grande di gestirlo tranquillamente. C'è anche quello dei paesi del resto... Molto simile a quello francese, l'altro... C'è quello delle isole britanniche, soltanto il sistema spagnolo... C'è quello francese che nasce dallo stesso peccato originale del nostro sistema venatorio, cioè dalle leggi napoleonie che hanno reso pubblica e democratica la caccia. Poi loro hanno trovato la strada e noi continuiamo invece... Vabbè, quello è un altro discorso. Comunque è tutto un altro discorso che ci porta lontano. Ecco, io vorrei dire... Ma le aziende fonistiche venatorie, che dovrebbero essere così affidate, dei mecenati, perché devono soltanto pagare, devono pagare i danni che fanno gli animali, devono pagare le tasse, devono pagare tutto, devono pagare la sorveglianza, perché c'è l'obbligo dei guardi a caccia, però perché sono dei piccoli i parchi? Allora, adesso, mentre noi parliamo, abbiamo cominciato a vedere dall'inizio di questo discorso, quello che le fototrappole che sarebbero delle macchine fotografiche notturne che scattano all'apparire di un animale, hanno documentato. Cioè la presenza di un mondo, di un universo di animali meravigliosi, abbiamo visto cerchi, abbiamo visto caprioli, abbiamo visto cignali, abbiamo visto quella che da noi si chiama la spinosa, che sarebbe bellistice, abbiamo visto il tasso, abbiamo visto il lupo, tutto appare. Tutto appare. Quindi vuol dire che è un mondo che vive a un passo da recitare. Tra l'altro, queste immagini sono state realizzate a un passo da Roma, a Cassetti Salce, che è tra Tarquinia e Vedralla, in provincia di Viterbo. Ecco, tu sei titolare di un'azienda, anche qui un altro piccolo paradiso a 20 km di Roma. E lì c'è l'arca di Noè. Questo però può accadere se c'è l'impegno personale. Ma la cosa strana è che dentro c'è questo mondo e a fuori stesso territorio, stesso territorio, non c'è nulla. C'è il deserto fuori. A fine stagione non c'è più nulla, nonostante gli animali che continuano a entrare. E gli animali da fuori vengono dentro. Da fuori vengono dentro e quelli che da dentro arrivano fuori, che non tornano più. Poi magari... Il cervo di Cassetti Salce, non ci ha messo nessuno, è arrivato da fuori. Lì si trova benissimo. Lì metterà su famiglia. E se speriamo che nei prossimi anni popoli di nuovo i posti... Probabilmente si troverà bene anche perché si tratta di un'azienda di quasi 3.000 ettari. Se si trovava in un'aziendina di 1.000 ettari... Ah beh c'è. È difficile. Noi, come Castelgiuliano Sasso, abbiamo un nucleo di cervi. Quelli che sono usciti fuori dall'azienda faunistica, non c'è neanche uno. Ed è la stessa cosa che succede nelle altre realtà, a Mininino, a Filistano, a Vulci, dove c'è questi animali bellissimi, meravigliosi, che però quando poi escono spariscono e non rientrano. Però questa è colpa anche del cacciatore. E questa è colpa anche del cacciatore. Il cacciatore che non riesce a capire che se fa incrementare queste specie un giorno potrebbero diventare una grossa risorsa, anche venatoria. Però è colpa del cacciatore, è colpa delle pubbliche amministrazioni che non capiscono l'importanza che queste specie hanno, anche perché ha un valore, voglio dire, anche venale, e non le proteggono nel modo giusto. Due argomenti, uno è la fanosepatica con produzione agricola. Cioè la fanosepatica è un bene culturale, sociale perché lo possono godere tutti, alimentare perché si tratta di carni prive di colesterolo, senza ormoni, che oggi si comincia a capire quanto siano importanti al punto che le ASL esaminano le carcasse, le famose carni alternative, per poter essere immesse a Perugia all'università circa 30 anni fa. Se ne cominciò a parlare, molto si è fatto, il recupero della collina dell'Appennino è servito, deve entrare nella mentalità delle famiglie, come succede in altri paesi, io faccio sempre l'Austria, che uno va al macellaio, mi dà un bel filetto di cero, grazie a Dio c'è chi si comincia a trattare nella cultura a Milano, ogni anno c'è una settimana voluta dal Consiglio Internazionale della Caccia, dove al circolo del giardino si offre un pranzo per 350 invitati eccellenti e in quella settimana lì tutta la regione Lombardia puoi ordinare moltissimi, quasi tutti i ristoranti. Io ho lavorato tanto per Diana e ti posso dire che i libri più venduti erano quelli di ricette sulla selvaggina, più di quelli sui racconti di caccia, quelli tecnici sulle varie tipologie di caccia, i più venduti ma di gran lunga erano le ricette sulla selvaggina. Lo sappiamo bene, noi abbiamo una serie molto bella gestita da Donnelli, un amico Donnelli, dove si propongono ogni volta delle ricette, poi ricette interessantissime perché sono fuori dalla loggia dei brasati, cioè i crudi, le tartare, i medaglioni rosa, cioè la carne appena conciata. Donnelli è riuscito a togliere il pregiudizio che la carne di selvaggina debba essere trattata in maniere... Eliminiamo le marinature. Marinature, eliminiamo le marinature. Il quale vorrebbe che tutta la zona, diciamo, dell'Appennino e dell'Alta, la parte alta dell'Appennino, si venga trasformata in una grossa azienda faunistica, praticamente, in tante aziende faunistiche per la produzione di selvaggine alternative. Ed è il libro che ha vinto il premio alla mostra di Milano, quella grossa che c'è stata a lungo, eccetera. Quindi è una cosa interessante, è uno studio importante del quale bisognerà parlare. Nell'84 il mio documentario fatto con Gian Piero Sammuri... Parlava, però da allora è stato ripreso da lui, che è un protezionista, un ambientalista, e questa è una cosa che secondo me ha un valore, a prescindere dal fatto, ed è un discorso che non dovremmo approfondire. Allora, è un bene, la parola sematica è un bene, è un alimento, è una risorsa economica. Chiudiamo però con una nota dolente, che riguarda soprattutto il Lazio, che mi interessa particolarmente. Quest'anno le aziende del Lazio non hanno potuto fare il controllo della specie cinghiale. Sono le aziende che pagano i danni, sono le aziende però che fanno il controllo. Quest'anno non le hanno consentito di fare il controllo. Ora finalmente lo faranno di nuovo. Ancora no, ancora non è, insomma, in teoria sì, ma all'atto pratico non ci stanno gli strumenti per poterlo fare. Ecco, ma perché è questo? Allora, è un'incomprensione, è un'incapacità gestionale della Regione, la quale non è in grado, prima cosa non c'è nessuno che si vuole assumere delle responsabilità a livello di funzionari, e si lavora così. E poi la seconda cosa è che non c'è una visione politica di volontà che porta avanti i problemi, alla soluzione dei problemi. I problemi sono evidenziati ma non si risolvono. Si sa che ci stanno, e vabbè si farà, si vedrà, si dirà, però poi... Però intanto ci fanno i danni, intanto ci sono incidenti di macchine, e paghiamo noi, paghiamo noi agricoltori, paghiamo noi come azienda fonistica, paghiamo sempre noi. Vabbè, tanto per finire in bellezza, vi do notizia, c'è ancora un parco, un parco addirittura nazionale, che è stato proposto nel Lazio, ma già da un anno, una storia è vecchia, ma in questi giorni è riuscito fuori, vuol dire che c'è qualcosa che bolle in pentola. Io vi avviso, c'è un parco addirittura nazionale, credo sia di 40.000 etteri, che viene proposto nel Lazio, a Es di Roma, ma chi lo propone? Ragazzi, i cittadini delle Ollus, dei comitati, dei territori confluiti nel QRE, e che è QRE? Vuol dire quartieri riuniti in evoluzione, ma li avete mai sentiti nominati? Ma che competenze hanno? Il motivo per cui si propongono questi parchi è il motivo di cercare posti di lavoro, che tocca fa, dicevo io, per un pezzo di pane. Qualcuno spera in qualche posto, con tanto di fuoristrada, da esibire fuori dai bar, delle cittadini, dei paesini locali. Qualcuno promette ai sindaci risorse, soldi, turisti, è un guaio, non sarete più padroni in casa vostra, non siete più padroni di coltivare come avete coltivato, di pescare come avete pescato, di raccogliere i funghi come avete fatto, di andare a casa come avete fatto, di fare una staccionata, non siete più padroni di niente, nemmeno di aprire una finestra a casa vostra, perché c'erano lì le guardie del cardinale pronte a colpire e fare i verbali. E qualsiasi cosa dovete fare, valutazione di incidenza con costi enormi. L'ultimo parco realizzato in provincia di Roma è stato il parco di Bracciano-Mattinano, ditemi voi i sindaci Bracciano-Drevignano, Anguilla-Anguilla. Alle due di notte, votato alle due di notte su scadenza di giunta. Quali vantaggi hanno avuto, quali vantaggi, sono soltanto che quel patrimonio che alcune famiglie romane avevano costruito, patrimonio di ambiente e di fauna, è distrutto. Non c'è più niente, intorno al lago non c'è più l'animale. Cinghiali, volpi e cornacchie. Ecco, bravo. E lui, esatto. E lui, come vi ho detto. E bracconieri autorizzati. Allora, adesso, amici, riflettete un attimo. Le cose noi riusciamo a farle se le vogliamo. facevano molta immaginazione e molta voglia di fare. Quindi difendiamoci. Noi siamo cittadini, possiamo difendere. Abbiamo i mezzi per farlo. Vabbè. Un altro sassolino che mi sono levato. Voi lo conoscete, Felice Buglioni? Sì. Bene. Ecco, è stato rieletto domenica presidente della FIDASC. La FIDASC è la federazione del CONI, federazione italiana, discipline, armi sportive e da caccia. Ci tengo particolarmente che io di questa federazione sono il primo presidente e continuo a essere presidente onorario. Poi nel corso dell'assemblea, vedremo fra un istante, sono stato addirittura nominato vicepresidente dell'assemblea. E' un'assemblea piena di presidenti. E vediamoci il filmato. Già alle 9 del mattino i primi delegati si sono affollati al Banco degli Accrediti. Alle 10 sono affluiti nel salone delle conferenze dell'albergo Eccelzer. Al tavolo della presidenza il vicepresidente del CONI, Luciano Bonfiglio, in rappresentanza del presidente Giovanni Malagò. Presideva l'assemblea Alberto Miglietta, amministratore delegato del CONI Servizi. Vicepresidente dell'assemblea Bruno Modugno, che fu il primo presidente della FIDASC ed attualmente è il presidente onorario. Erano presenti 127 presidenti regionali, 11 delegati in rappresentanza degli atleti, 7 in rappresentanza dei tecnici e 10 degli ufficiali di gara. In tutto 155 delegati su 242 aventi diritto al voto. L'assemblea ha ascoltato la relazione del presidente uscente, Felice Buglione, che ha ricordato il lavoro svolto durante l'ultimo quadriennio olimpico. Dopo le difficoltà e le diffidenze che all'inizio la federazione ha dovuto affrontare per la sua derivazione venatoria, ha cominciato con orgoglio e determinazione il suo cammino sportivo in ambito nazionale e internazionale. Sono arrivati i primi successi internazionali. Nell'ultimo quadriennio si è dolorosamente registrata la perdita di alcune discipline, che però è stata compensata dall'acquisto di altre, che sono andate ad arricchire la cinofilia, e di altri sport all'aria aperta, come il paintball e il tiro con l'arco. La FIDAS, sempre nel quadriennio 2013-2017, ha visto arricchire il suo palmarès in 14 competizioni europee e mondiali. Oggi, nel futuro della FIDAS, c'è un traguardo, la partecipazione con una delle sue discipline alle Olimpiadi. È presto per parlarne, ma l'obiettivo di questo nuovo quadriennio olimpico è di entrare a pieno titolo nei cinque cerchi, con una delle sue discipline. La strada è lunga e difficile, ma come ha detto Buglione, citando Henry Ford, tu puoi fare qualsiasi cosa se hai entusiasmo. Dopo la relazione di Buglione, si sono svolte le operazioni di voto per la nomina del Presidente e per il rinnovo delle cariche federali. Felice Buglione è stato rieletto ad un'animità nuovo Presidente federale per il prossimo quadriennio olimpico. Auguri, Presidente! Eccolo qui, Andrea Mariani, il capobranco di generazioni di setter che affollano il piccolo schermo, li vediamo a caccia, lui parte con tre, quattro cani. Allora, in questo spazio, fine trasmissione, presentiamo sempre le serie che vedrete da qui a poco. Allora, tra un po', a partire dal 6 aprile, segnatevelo, 6 aprile alle 21, andremo dalla serie infinita, no? Che anno è? Ottava edizione. Ottava edizione della serie. Live Hunting Emotion. Dove si vede, Andrea, spesso solo, qualche volta con amici, cacciare nelle macchie, nei boschi dell'Appennino, lì intorno a casa, come nei paesi baltici, come... All'est, come al sud dell'Italia, al nord. Sud dell'Italia, eccetera. L'Italia la giriamo un po' tutta, da Trieste a Catania. Ecco, allora, in questa serie qui, che cosa ci puoi vedere? Dove sei stato? Allora, in questa serie proporrò sia l'Italia che l'estero, e l'ho divisa un po' in parti uguali, e sono partito dal nord, da ottobre, quindi tutti i paesi baltici, anche la Scandinavia, quindi i paesi del Baltico orientale, Estonia, Lettonia, Lituania, per poi, man mano, scendere al sud, insieme al movimento della migrazione, delle beccacce, che, ovviamente, nei mesi di novembre e dicembre, arrivano nel Mediterraneo e nei paesi dell'est. Quindi Macedonia, Serbia, Grecia, e quindi Italia. E l'Italia, però, grazie a Dio, abitando ad Ascoli Viceno, c'erai pure dietro casa. Diciamo di sì, sopra casa. Ho delle bellissime palestre, un motivo per cui sono molto avvantaggiato. Pensate che città, è stata una città meravigliosa, da fare tutto quanto a piedi, perché, grazie a Dio, il centro storico si fa a piedi. Poi c'è il mare a un passo. Sì. La montagna, i Sibilini, è che montagna? Non è raro le volte che... Si va a sciare, nella stessa stagione, a fine marzo, aprile, si va a sciare o si va al mare? Sì, sì. E in più ci hanno macchie bellissime, dove, essendo aperte a est, quindi ai primi freddi, ai primi venti di grecale, arrivano le beccacce. Arrivano. E che vuole di più? Eh, meglio di così. E tu vuoi lasciare Ascoli? No, non voglio mai lasciare Ascoli. Io faccio un po'... Purtroppo, ecco, avete avuto, quest'anno, da quest'estate, Ascoli è stata, così, una delle città che ha sofferto del terremoto. Sì, tanto. Abbiamo subito da sei mesi questa situazione abbastanza drammatica, per noi adulti, ma soprattutto per i nostri bambini, che... Che ancora oggi i bambini hanno bisogno delle cure dello psicologo a scuola? Sì, sì, stanno un po' tutti terrorizzati, un po' tutti sul chi va là, perché qualsiasi movimento, qualsiasi rumore... Ecco, i cani come l'hanno sopportato? Subita? Ah, il cane non ha una memoria, non ha una coscienza, il cane avverte il terremoto... Ma vabbè, è vero che l'avverte prima? Io a casa, quando arrivo nascosta e si sente arrivare qualche secondo, frazione di secondo prima, già i cani mi hanno avvisato che sta accadendo qualcosa. Abbaiano tutti insieme. Tutti insieme? Sì, tutti insieme. Tra l'altro a casa ho anche un barboncino che quando comincia a ringhiare e poi fa l'abbaio, aspetta di la scossa perché sta arrivando. Dopo nemmeno mezzo secondo arriva alla scossa di terremoto. E questa è una cosa, perché nessuna delle cronache che avete letto sul terremoto è stata mai riportata. Eh, certe volte veramente il barboncino abbaia anche perché fuori sente un rumore, allora tutti pronti a scattare fuori per scappare poi è un falso allarme magari. Però stiamo terrorizzati. Parliamo dei paesi baltici. Sì. E sono paesi per di facile, sono boschi dove sono nate le grandi saghe nordiche, quindi uno si immagina elfi, folletti, streghe, è vero? sono boschi bui, sono boschi dove ci si perde. Tu ormai non c'è più il rischio perché con il GPS tu puoi trovare te stesso, sai dove stai, sai dove stare la macchina, ma anche ritornare i cani che magari sono andati dietro a qualche odoro perché lì si è overi di caprioli, si è overi di calci, di umulati, pieno proprio, pieno. può darsi pure che qualche, oppure una beccaccia furba che si è riuscito a trascinare molto lontano il cane, grazie al GPS. Ecco, ma la prima volta che hai messo piede in una foresta di queste qui baltiche, non è un po' inquietante rispetto alle nostre macchie ridenti? Sì, all'inizio c'è subito un effetto di paura e di smarrimento. Dopo, per fortuna, grazie alla tecnologia, soprattutto negli ultimi periodi, siamo un po' più tranquilli perché ovviamente in boschi di centinaia di migliaia di ettari, piatti, spesso piatti e con vegetazione molto, molto uniforme perdi completamente i punti di riferimento. Quindi, senza l'ausilio del GPS, per noi e per i nostri cani saremmo veramente nel deserto persi. Non hai avuto mai problemi di nessun genere con loro? Con l'orso? Quindi, normalmente si incontri con l'orso? Sì, ho avuto problemi. L'orso in quelle parti ci bazzica poco, però ci sono tanti cinghiali che, come sapete, sono cinghiali di 200 kg e fanno paura e quando toccano fanno veramente tanto male. Poi non sono cinghiali che scappano, che fuggono, non conoscono cani, non conoscono l'uomo, quindi stanno lì, aspettano e attaccano. Sono molto pericolosi e per fortuna, grazie appunto all'ausilio del GPS, ci accorgiamo quando un cane è al ridosso di un cinghiale, meglio ancora, quando segue un ungulato e ce ne accorgiamo subito perché in modo diretto abbiamo la velocità, la distanza, la direzione, il movimento del cane, è una salvaguardia per il nostro cane. Io sono assolutamente favorevole a questa tecnologia perché protegge me e i miei cani. domanda da cinghialaio, ma con tanti bei cinghiali non ti è avuto mai la tentazione di andare a cinghiali, tu sei perso dietro la penna e i tuoi setter, ma l'idea di andare a cinghiali, io lo sai che non ho traviato i tanti del canale alla canna rigata? Bruno, guarda, andare a cinghiale non è che sia proprio così noioso, è noioso stare lì ad aspettarlo, andrei a cinghiale se potessi condurre io i cani e mi diverto a vedere i cani. Cioè mi hai pensato a condurre una muta di cani da cinghiale? Sì, ci ho pensato, l'ho anche fatto con amici e certe volte vado, seguo e mi diverto anche molto. Ah, ecco, però non serve male vederti una volta una tua puntata come canaio dietro ai cinghiali, me la prometti questa qui? Certo, te la prometto e lo farò, ovviamente condurrò i cani di altri, quindi non sono i miei setter che al primo schiocco. Sono dei soldatini, lui fa, vai, e questi forzo e a beccaccia a parte. Mi contestano un po' questa cosa ai puristi, io contesto alcuni che tirano i sassi. Eh, è molto più brutto tra l'altro, tirare un sasso che piuttosto... Però c'è un maestro e l'immagine che avete visto migliaia di volte è che si è levato la beretta, l'ha tirata e è fatto volare. Non è male. Sai chi è? Chi è? Gianni Lugari. Ah sì, Giannone che... È bravissimo. È bravo. Lui con la beretta l'ha forzati così. Sì. Ecco, abbiamo visto tanti bellissimi cani da quando hai cominciato a collaborare con noi. vogliamo ricordare intanto quelli adesso in attività di servizio i più bravi e adesso ci rivediamo anche in qualche azione. Beh, degli attuali abbiamo... cominciamo dai giovanissimi le new entry che sono Lord cane speciale diciamo è una mia meta aspiravo da tanto tempo a quel cane là e per fortuna è arrivato. c'è non ha nemmeno due anni è un fenomeno della natura e quest'anno lo vedremo spesso. Poi c'è il principe che io chiamo il principe ma si chiama Black guardate quello che fa come muove cosa inventa lui mi risolve le situazioni più difficili anche nei momenti veramente difficoltosi quando c'è poca selvaggina lui risolve sempre il problema. Poi ci sono gli stilisti Eto che è il mio capo riproduttore Quanti anni ha ormai Eto? Eto ha sette anni tra l'altro suo fratello Ghibli è un campione europeo attuale specialità beccacce e di questo ne vado molto molto orgoglioso Ghibli è un amico? Sì Ghibli è dell'amico Gabriele Gnutti Complimenti Gabriele che hai fatto che fortuna che ho avuto Condotto da Fabrizio Balocci un dresser professionista Eh beh insomma quindi siamo ai massimi livelli Sì poi c'è tutta una squadra di femmine di giovani di gioventù posso nominare Frank potrei nominare Speed Jennifer Greta Cani Tutti a memoria ma tu li riconosci tutti uno per uno? Uno per uno io ho dei rapporti con i miei cani veramente Sei il capobranco Sì sono il capobranco indiscusso poi c'era fino a qualche giorno fa Messi che purtroppo mi ha lasciato E come si dedichiamo un attimo di affettuoso rispetto a questo grande campione e ci ha lasciato orfani un pochino tutti Eh sì quattro anni un po' poco per un setter che ha iniziato una carriera spettacolare splendente che proprio nell'apice del suo avvenire quando era completo in tutto purtroppo si è ammalato e ho fatto di tutto per salvarlo l'ho salvato per un anno l'ho curato per un anno e quell'anno andava a caccia lui? Andava a caccia e ci ho fatto anche dei filmati le immagini che stiamo forse vedendo in sovrimpressione sono proprio inerenti all'ultimo episodio girato con lui Ecco vediamo adesso i grandi i grandi del passato il cui sangue continua a scorrere nelle vene dei successori Allora la selezione per me è una cosa importantissima sono partito da un blocco di marmo grezzo e piano piano con il lavoro con il sacrificio e con tanta tanta passione ho smussato gli angoli vivi per avere oltre che la quantità di cani che vanno tanto a caccia e che sono dei favolosi ausiliari ho voluto lavorare molto sulla morfologia le qualità della razza e l'estetica che non guarda Ci chiamo i più famosi del passato i più famosi del passato e tutti forse chi mi ha seguito lo ricorderanno sono Giada del Dianella sono Max Varen Varen Pedro il branco il vecchio branco Varen è quello che tutti ricordano più conosciuto il più coccolato di tutti perché era quello più presente in tv cane tutto cervello gambe animus e naso molto bene complimenti Andrea allora non dimenticate l'appuntamento è il giovedì 6 aprile l'appuntamento per la prima puntata alle ore 21 abbiamo concluso col sorriso dei cani i cani sono nel nostro cuore e quando ci manca un cane ed una cosa che ti ho scritto io quando è morto Messi lo vogliamo ricordare con le parole del grande Thomas Mann la tua coda mi batte ancora nel cuore l'appuntamento